Si chiama Faisal Shefou ed è nelle mani degli inquirenti belgi, il terzo terrorista, quello con il cappello che appare nelle immagini dell'aeroporto di Bruxelles, accanto ai due kamikaze, lo ha riconosciuto il tassista che lo ha accompagnato martedì allo scalo, è un giornalista che si era occupato dei diritti dei migranti musulmani, annullata per motivi di sicurezza la marcia contro la paura che era in programma oggi nella capitale belga. Un algerino di 40 anni arrestato a Bellizzi in provincia di Salerno è accusato di aver fabbricato documenti falsi utilizzati dai terroristi e autori delle stragi di Parigi e di Bruxelles, l'uomo si chiama Jamal Edine Wali e aveva richiesto un permesso di soggiorni in Italia, le indagini e la procura hanno accertato che era ricercato in Belgio dove a breve verrà estradato. Resta molto alta la tensione fra Roma e il Cairo sul caso Regeni, l'Italia si fermerà solo davanti alla verità, ha ribadito il premier Matteo Renzi, dopo l'ennesima versione fornita dall'autorità egiziane sull'omicidio del giovane ricercatore. Lo zaino non è di Giulio, precisa scettica la procura di Roma e va chiarito come sono stati ritrovati i suoi documenti. Stati Uniti, Bernie Sanders vince nel West e non molle il candidato per la nomination democratica, supera la rivale Hillary Clinton nei Cocos in Alaska e nello Stato di Washington ed ora punta a quello di New York dove però l'ex First Lady è favorita. Vinciamo con i giovani il futuro degli Stati Uniti, dice il senatore del Vermont. 7.31 buongiorno e auguri per la Pasqua dalla prima edizione del Tg La 7. Allora c'è stato un arresto in Italia collegato alle stragi di Parigi e di Bruxelles, ma proprio da Bruxelles partiamo perché l'elemento nuovo di queste ore è il fatto che nelle mani degli inquirenti c'è e già da qualche giorno il cosiddetto terzo uomo, quello con il cappello della famosa foto in bianco e nero delle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto di Bruxelles. E' l'uomo che accompagnava i terroristi kamikaze che si sono fatti esplodere proprio in aeroporto a Zaventem, Feisal Shafu che era un giornalista che raccontava peraltro nei suoi reportage le vessazioni ai danni dei migranti musulmani. Vediamo, partiamo da qui. Hanno un nome l'uomo col cappello e quello ferito alla fermata del tram a Scarbeck due giorni fa. Il primo è Feisal Shafu, sarebbe lui l'uomo che trasportava un borsone all'aeroporto con Ibrahim Elbakrawi e Najim Lashrawi. C'è molto da capire su di lui a cominciare dal perché non si è saltato in aria col suo bagaglio che, secondo gli inquirenti, era il più pericoloso, avrebbe reso ancora più drammatico il bilancio delle vittime ed è stato fatto saltare dagli artificieri. Shafu era nel taxi con altri terroristi di Zaventem, è un giornalista freelance, ha realizzato qualche servizio mandato online su presunti maltrattamenti inflitti ai musulmani nelle carceri. Feisal Shafu si sentiva al sicuro, sapeva che il tassista aveva testimoniato con la polizia e che facilmente avrebbe potuto riconoscerlo. Eppure, la notte del 24 marzo è stato trovato con altre due persone in una macchina posteggiata qui, sulla grande piazza del Palazzo di Giustizia di Bruxelles. L'altro nome è quello di Abderamane Amerud, ferito e arrestato due giorni fa a Scarbeck. È algerino, ha una condanna a sette anni per aver partecipato all'organizzazione dell'attentato a Massoud, l'eroe della resistenza antitalebana, ucciso il 9 settembre 2001 in Afghanistan. Amerud sarebbe legato alla parte francese della cellula, quel crichè arrestato in Francia tre notti fa. Intanto le falle del sistema di sicurezza appaiono sempre più evidenti. Basti pensare che il giorno degli attacchi è andato in tilt a Astrid, sistema di comunicazione usato da forze dell'ordine di soccorso che hanno dovuto fare ricorso a Whatsapp. Ed è finito sotto inchiesta anche l'ufficiale di collegamento belga Istanbul che ritardò o omise l'invio dell'informativa sull'arresto e l'espulsione di Ibrahim Elbakrawi dalla Turchia. Allora, restiamo in Belgio. Oggi ci doveva essere una grande marcia per commemorare, come dire, le vittime di martedì scorso. Non ci sarà per motivi di sicurezza, mentre continua la preoccupazione per le difficoltà che hanno avuto nel controllare la situazione le forze dell'ordine belga. Perché la preoccupazione adesso resta quella che nel mirino dei terroristi ci siano in qualche modo le centrali nucleari o il materiale radioattivo per fabbricare magari una bomba sporca. La marcia contro la paura che si sarebbe dovuta tenere oggi a Bruxelles è stata cancellata. Non ci sono le condizioni per garantirne lo svolgimento in sicurezza. O meglio, i ministri di interni e giustizia hanno chiesto agli organizzatori di rinviarla perché la polizia è impegnata a tempo pieno nelle operazioni antiterrorismo. E cresce in Belgio la preoccupazione per la sicurezza delle centrali nucleari considerate nel mirino del terrorismo jihadista. Giovedì scorso il ministro della difesa britannico Fallon ha parlato di una nuova ed emergente minaccia. Ed è giallo sull'omicidio dell'addetto alla vigilanza dell'Istituto Nazionale dei Radioelementi, struttura in cui si producono isotopi nucleari a scopo medico, avvenuto giovedì vicino a Charleroi. Didier Prospero, questo è il nome, è stato freddato a colpi d'arma da fuoco nella sua villetta. La stampa fiamminga ha scritto che il suo badge per entrare nell'istituto è scomparso da casa, ma la procura locale ha smentito. Nessuna ha smentito invece della notizia pubblicata dal New York Times del ritiro dei tesserini di accesso a tutto il personale non essenziale al funzionamento delle due centrali nucleari belge di Doyle, a nord di Anversa, e Tiange, in Vallonia. Il New York Times rilancia anche l'ipotesi del rischio di una bomba sporca radioattiva ottenuta con le scorie nucleari delle centrali belge, troppo facili da infiltrare. Il clima di sfiducia verso le forze di sicurezza nazionali è avvalorato dall'ultimo rapporto degli organi di controllo interni delle attività di polizia e dei servizi di informazione pubblicato dal quotidiano fiammingo TISD. L'unità antiterrorismo della Polizia federale belga, si legge, è in stato di decomposizione perché è incapace di verificare e filtrare la massa di informazioni che riceve. Causa cronica insufficienza di mezzi a disposizione, gli agenti rovesciano tutto al centro di coordinamento dei servizi. Il rapporto è solo l'ultimo strappo nel tessuto lacerato della sicurezza belga. Nel giorno dell'attacco combinato di Bruxelles, polizia e soccorsi hanno dovuto comunicare via WhatsApp perché le reti cellulari e di emergenza interna, chiamata Astrid, sono andate in tilt. Giovedì il ministro dell'interno Jean Vaughn ha presentato le dimissioni, ma il premier Michel le ha respinte. E veniamo in Italia perché c'è stato un arresto collegato proprio alle stragi, sia quella di Parigi sia quella di Bruxelles. E' un uomo, un algerino, che è accusato di aver fornito documenti falsi ad alcuni dei terroristi. Salerno, Bruxelles, Parigi, tre città legate da un'unica organizzazione criminale di documenti falsi, un triangolo che unisce l'Italia a due attentati terroristici. Su mandato della polizia belga, la Digos e l'antiterrorismo hanno arrestato ieri a Bellizia, in provincia di Salerno, un algerino di 40 anni, è già male, Dean Quali, è accusato di far parte di un'organizzazione dedita alla produzione di carte d'identità e passaporti falsi e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il suo nome è saltato fuori per la prima volta durante la perquisizione di un covo di falsare individuato in un subborgo di Bruxelles ad ottobre scorso, poco prima delle stragi di Parigi. In quel nascondiglio la polizia trovò migliaia di immagini digitalizzate, utilizzate per produrre documenti falsi di identità, utilizzati soprattutto da terroristi che potevano così entrare e uscire dall'Europa senza essere individuati. In particolare ce n'erano tre legati agli attacchi, uno sarebbe stato utilizzato da Abdeslam Salam, il decimo terrorista della cellula che ha colpito Parigi. L'uomo che avrebbe dovuto farsi saltare in aria allo Stade France, ma che all'ultimo ha avuto paura, arrestato dieci giorni fa a Bruxelles. Il secondo documento per gli investigatori è stato utilizzato da Mohamed Belkaid, ucciso dalle forze speciali belghe durante il blitz del 15 marzo scorso. Il terzo documento sarebbe servito a Najim Larchui, uno dei due kamikaze che si è fatto saltare in aria martedì scorso all'aeroporto di Zaventem. A tradire l'Algerino è stata la richiesta per il permesso di soggiorno fatta alla questura di Salerno. Da un controllo nella banca dati è il risultato che l'uomo era ricercato in Belgio, arrestato del re stradato. La Chiesa deve portare speranza nel mondo che ne è assetato così ieri sera Papa Francesco nella veglia pasquale. Oggi, domenica di Pasqua, c'è grande attesa per quello che Papa Bergoglio dirà sicuramente toccherà anche alcuni dei temi di grande attualità dagli attentati alle vicende dei migranti che sono sempre al centro dell'attenzione di Papa Francesco. Senza cedere alla tristezza e all'oscurità, ha dato spazio alla voce della speranza. La speranza al centro della missione cristiana. Il mondo ne ha tanto bisogno e la Chiesa deve fare il possibile per suscitarla e diffonderla. Nella notte di veglia pasquale in San Pietro, Papa Francesco individua nel concetto di speranza il significato stesso della Pasqua. Dopo aver incentrato nella via Crucis al Colosseo la preghiera del Venerdì Santo sui drammi e le ingiustizie del mondo, sulle vittime del terrorismo fondamentaliste, sui profughi che trovano porte chiuse o annegano in mare, il Pontefice adesso sprona i fedeli verso la speranza, che non è ottimismo e nemmeno un atteggiamento psicologico o un buon invito a farsi coraggio. La speranza cristiana è un dono che Dio ci fa se usciamo da noi stessi e ci apriamo a Lui. Questa è la prima pietra da far rotolare via questa notte, dice Papa Bergoglio. La mancanza di speranza che ci chiude in noi stessi occorre liberarsi da questa terribile trappola, dall'essere cristiani senza speranza, che vivono come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita fossero i nostri problemi. Nella veglia di resurrezione il Papa ha conferito anche i sacramenti dell'iniziazione cristiana, a battesimo, cresima e prima comunione, a un gruppo di catecumeni, persone che in età adulta si sono avvicinate alla fede provenienti dall'Albania, dalla Corea, dall'Italia, dal Camerun, dall'India e dalla Cina. Ed ora c'è attesa per il messaggio che tra poche ore il Papa lancerà, urbi e torbi, dalla loggia di San Pietro in cui non potranno non trovare posto ancora le tragedie purtroppo attuali come il dramma dei migranti e la minaccia del terrorismo che costringerà migliaia di fedeli a lunghe code per i controlli in ingresso a Piazza San Pietro. Ora l'Egitto deve accettare che accanto agli investigatori di quel paese ci siano quelli italiani. Lo dice in un'intervista questa mattina il ministro dell'Interno Alfano, dopo le ultime versioni che arrivano proprio dal Cairo sulla morte di Giulio Reggeni. Il Presidente del Consiglio è stato molto esplicito, il nostro paese vuole una cosa sola, la verità su questo caso. Non ci fermeremo che davanti alla verità. Il nuovo monito pronunciato ieri dal Presidente del Consiglio, Renzi, una nuova risposta del governo italiano alle ricostruzioni sulla morte di Giulio Reggeni che arrivano dal Cairo e che presentano sempre nuove crepe e incongruenze. Stranezze che sanno di depistaggi e per cui ora nuovamente la Procura di Roma che incontrerà i colleghi egiziani nella capitale il prossimo 5 aprile, chiede chiarimenti. Vogliamo che venga ricostruito l'iter che ha portato i documenti di Reggeni nella disponibilità delle persone presso la quale sono stati ritrovati. Ha scritto ieri in una nota il procuratore, capo Pignatone. La versione della banda specializzata in rapimenti uccise alcuni giorni fa dagli agenti egiziani non convince, così come non tornano alcuni particolari inventiti anche dalla moglie del capo della gang sgominata, interrogata in carcere perché accusata di aver nascosto un crimine e per possesso di materiale rubato. Nella foto con i documenti di Reggeni sono presenti anche uno zaino degli occhiali e dell'ascisce. Nessuno dei tre oggetti apparteneva al ricercatore italiano. La donna ha detto che la borsa era stata portata nella sua abitazione solo un giorno prima del blitz della polizia egiziana data al marito da un amico, ma due mesi dopo la morte di Reggeni. C'è poi la questione del bancomat del giovane italiano con la banda che lo avrebbe avuto da almeno 60 giorni, ma dal conto di Reggeni nessun prelievo è stato effettuato. C'è una notizia di questi minuti importante. L'esercito siriano ha il controllo totale di Palmira, la città sede della famosa area archeologica patrimonio dell'UNESCO, che era città di Palmira da mesi sotto il controllo dello Stato Islamico. Lo affermano fonti militari di Damasco. E poi le altre notizie che arrivano dagli Stati Uniti relative alle primarie. Bene, Bernie Sanders, il grande rivale di Hillary Clinton, ha vinto i COCOS, quindi le consultazioni interne al partito, sia nello Stato di Washington che in Alaska e rilancia la sua sfida per la nomination democratica. Abbiamo un varco verso la vittoria. È stato questo il commento a caldo di Bernie Sanders subito dopo la vittoria dei COCOS democratici dell'Alaska, ovvero le assemblee di elettori. Eclatante il successo sulla frontrunner Hillary Clinton. Secondo le proiezioni della CNN, il senatore del Vermont ha battuto la Clinton con il 79% dei consensi contro il 21%. A far salire la febbre del sabato sera di Bernie Sanders è stata l'altra vittoria netta nello Stato di Washington. Sanders ha ottenuto l'81,6% delle preferenze rispetto al 18,4% dell'ex First Lady. Stiamo seriamente intaccando il vantaggio del segretario Clinton. Ha poi detto Sanders. La nostra forza sono i giovani. Ha proseguito il senatore dal suo quartier generale a Madison in Wisconsin. E con i giovani, dice Sanders, non intendo solo giovanissimi, perché più si diventa vecchi e più i giovani sembrano giovani. Il senatore liberal ora ci crede davvero e non molla, nonostante il distacco dalla rivale Clinton. Nella conta dei delegati sia ancora ampio, ma l'obiettivo è arrivare fino alla convention. In quest'ultima tornata di primarie democratiche, in vista delle elezioni per il dopo Obama, ci sono 142 delegati in palio da distribuire su base proporzionale. Non sono sufficienti per ribattare la situazione, ma più che altro sono indicativi. Così tra i democratici sarà una battaglia all'ultimo voto, fino a sfidare la rivale, proprio nello stato tra quelli più a lei favorevoli, New York, di cui è stata senatore e che vota per le primarie democratiche il prossimo 19 aprile. Secondo quanto riportato dal Washington Post, citando indiscrezioni della campagna di Sanders, il piano del senatore è di andare all'attacco con un tour serratissimo e uno schema simile a quello applicato con successo in Michigan, dove nelle scorse settimane il senatore del Vermont ha messo a segno un sorpasso inaspettato e la doppia vittoria di questa notte, ad ovest, dove si è giudicato con largo immagine ai caucus, non può che rafforzare questo piano, prossima tappa è Wisconsin, dove si vota il 5 aprile. La lunga cursa dell'election day che apre le porte della Casa Bianca tra i democratici è una partita ancora aperta. In un anno all'Italia, un miliardo e sette dei cosiddetti fondi Juncker, quelli che servono allo sviluppo, dice il nostro Ministero dell'Economia, che possono servire a creare investimenti per oltre 12 miliardi. E per una volta è una buona notizia nei confronti dell'Europa. Per una volta l'Italia ha il comando di una classifica europea, quella dei paesi dell'Unione in corsa per i miliardi destinati agli investimenti previsti dal piano Juncker, voluto dal Presidente della Commissione europea appena insediatosi nel novembre di due anni fa, con l'obiettivo di rimettere in moto la crescita economica del vecchio continente. Un piano ambizioso, ma che per la verità si è mosso a rilento, tanto a sollevare le critiche del nostro Ministro dell'Economia, Padoan, che ora però può sfoggiare, a buon diritto sul sito del suo dicastero, i numeri del primato italiano. Siamo infatti il paese capofila davanti a Francia, Germania e Gran Bretagna. L'Italia beneficerà di 1,7 miliardi di euro sui 13 messi a disposizione finora dal piano Juncker, che conta distanziarne altri 300. approvate da Bruxelles 29 iniziative fra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali che, secondo il Ministero dell'Economia, potranno avere un effetto domino sia su altri investimenti per circa 12 miliardi che sull'occupazione, attivando 3.200 nuovi posti di lavoro. Insomma, una pioggia di denaro che dovrebbe riguardare, fra l'altro, i trasporti ferroviari e l'efficienza energetica e che, secondo le aspettative del Presidente della Commissione europea, potrebbe rimettere in moto le economie dei paesi, la cui ripresa si mostra più fragile delle altre. E fra questi c'è l'Italia, e che devono anche fare i conti con il debito pubblico e la deflazione. Il campionato di calcio, lo sapete, è quello di Serie A fermo. L'attenzione è concentrata sulla nazionale, che martedì giocherà a Monaco di Baviera contro la Germania e dopo la partita con la Spagna c'è un certo ottimismo fra Conte e gli azzurri. Si temeva che l'uovo azzurro fosse vuoto e invece il pareggio di Udine contro i campioni continentali della Spagna ci ha riservato una piacevole sorpresa. Più che una nazionale, l'Italia di Conte sembra una formazione di club, per la sua precisa identità di gioco e per una varietà di moduli impensabile per un gruppo che lavora insieme soltanto ogni due mesi. Sulle macerie di Brasile 2014 il CT a scadenza ha dimostrato che è possibile trasmettere concetti tattici nuovi in tempi ragionevoli e che l'organizzazione di squadra permette di sopperire anche alla mancanza di talento e a qualche assenza pesante. Il 3-4-3 che ha debuttato e convinto giovedì sarà riproposto anche dopodomani a Monaco di Baviera, quando affronteremo sempre in amichevole la Germania mondiale. Cambieranno diversi interpreti, ma la mentalità sarà la stessa pure all'Allianz Arena. A meno di tre mesi dagli europei Conte pretende risposte dai suoi uomini, mentre Simone Zazza dopo aver temuto di perdere la nazionale per il poco spazio nella Juventus, adesso non pone limiti alla nostra avventura in Francia. Io non vedo una squadra che ammazza tutte le altre, perciò possiamo davvero fare bene. È l'obiettivo di tutti, è la speranza di tutti. Intanto l'obiettivo più immediato è di ottenere in Germania finalmente una vittoria di prestigio. Tra le big infatti Conte ha battuto finora soltanto l'Olanda nel giorno del suo debutto sulla panchina azzurra. Poi sono arrivati i pareggi con Inghilterra e Spagna e i due KO contro Portogallo e Belgio. Un successo sui tedeschi permetterebbe di migliorare il bilancio e di aumentare le convinzioni dell'Italia che anche oggi, domenica di Pasqua, sosterrà una doppia seduta di allenamento a Coverciano. Allora fra poco le previsioni meteo con Paolo sotto corona, poi alle 13.30 come sempre la prossima edizione del telegiornale. Io vi ricordo che domani non ci sarà Omnibus News, d'altra parte non sono in edicola neanche i giornali. Grazie e buon proseguimento di giornata. Tanti auguri di nuovo. Arrivederci. Grazie a tutti.